Presentata alla Dispoli l'associazione rinnovamento per la Dispoli di cui fanno parte giovani, anziani, persone comuni che vogliono il bene della città e che sono intenzionate a lanciare idee. Movimento il cui massimo esponente è il consigliere comunale Federico Ascani. Si parte soprattutto dai giovani ma vogliamo andare oltre e quello che ci interessa è applicare strumenti nuovi, andare anche oltre l'età anagrafica e puntare su un'età psicologica, cambiare i modi e fare in modo che la gente si avvicini alla partecipazione. Quindi se non siamo piaciuti con i metodi classici provare a cercare nuovi strumenti per il bene comune. Molti giovani hanno partecipato all'incontro, un segnale che incoraggia Ascani. Sì, infatti si parte soprattutto dai giovani ma vogliamo andare oltre e quello che ci interessa è applicare strumenti nuovi, andare anche oltre l'età anagrafica e puntare su un'età psicologica, cambiare i modi e fare in modo che la gente si avvicini alla partecipazione. Quindi se non siamo piaciuti con i metodi classici provare a cercare nuovi strumenti per il bene comune.